United Group Franco Curletto by Roberto Volpe e il suo team ti aspettano nel suo atelier di venaria reale. Scegli con Roberto il colore giusto per i tuoi capelli, lasciati coccolare in uno spazio esclusivo e affidati alle sue esperte mani per un taglio originale e perfetto. Le sue preziosi assistenti completeranno l'opera e sarai bellissima nei tuoi capelli. United Group Franco Curletto by Roberto Volpe. Always ahead. Il tuo parrucchiere di fiducia. Grazie a tutti.